Primo Talent Day di Confindustria Varese, qual è l'obiettivo, il senso della giornata? Beh, una giornata molto importante, l'obiettivo è appunto un evento di orientamento per i giovani, per mettersi in relazione con le imprese, con le aziende e aver l'opportunità di mettersi alla prova in delle simulazioni di colloqui e quindi comprendere meglio come ci si relaziona col mondo delle imprese. Noi come gruppo Giovani Imprenditori supportiamo molto l'attività di orientamento per i giovani, che sono la classe imprenditoriale e manageriale di domani e quindi siamo orgogliosi di oggi promuovere questa iniziativa. Nome e cognome carica? Pietro Conti, vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori.